mi chiedete sempre come si chiamano i miei gatti lui un maschio è vegeta e oggi ci sarà solo lui nei prossimi video man mano che appariranno ve li presenterò lui comunque il più attivo è sempre lì ad ascoltare tutto quello che ho da dire cominciamo è il 4 novembre 1970 una donna e sua figlia si recano agli uffici di previdenza per richiedere un assegno per la parziale cecità della donna però sbagliano ufficio anche a causa della sua cecità ed entrano in quello dei servizi sociali l'assistente che le accoglie nota subito che qualcosa non va la bambina ha un aspetto insolito trasandato è ingobbita cammina male non sa parlare e ha uno sguardo scavato da delle profonde occhiaie però sembra molto piccola quindi l'assistente chiede alla donna quanti anni avesse sua figlia e lei gli risponde che ha 13 anni da quel momento partirà un'incredibile indagine che porterà alla luce una verità agghiacciante la bambina verrà ricordata come genie feral child ovvero genie bambina selvaggia ragazzi buonasera sono andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi se vi piacciono le cose oscure macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui e oggi vi anticipo già che probabilmente vi verrà da piangere la storia di oggi è davvero molto 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 triste si tratta di un caso tanto angosciante ma al tempo stesso anche interessante piccolo disclaimer parleremo di vari tipi di abusi quindi vedete voi se ve la sentite di proseguire col video detto questo iniziamo subito con i file di oggi ci troviamo ad arcadia in california qui vive la famiglia willey che è composta dal padre clark willey dalla madre irene elizabeth oglesby e dei loro due figli john e genie all'apparenza potrebbe sembrare una famiglia come tante altre in realtà neanche all'apparenza comunque in realtà non lo è per niente da anni infatti i genitori portavano avanti un matrimonio a dir poco terribile la loro storia è davvero un casino e ha portato ad uno dei peggiori casi di abuso mai visti ma per capire di cosa stiamo parlando dobbiamo fare un bel passo indietro dobbiamo partire dal padre della famiglia clark willey la sua infanzia è stata semplicemente un tormento continuo clark nasce nel 1901 nell'oregon stati uniti stando a ciò che sono riuscito a trovare online cresce principalmente in famiglie affidatarie suo padre infatti era morto a causa di un fulmine quando lui era molto piccolo e sua madre di nome pearl may cook martin secondo quanto si dice faceva la prostituta e gestiva un bordello oltre a questo sua madre gli aveva dato un nome femminile alla nascita l'aveva chiamato pearl willey perla il che purtroppo lo condanna ad un'infanzia addettata da critiche e bullismo soprattutto a scuola le continue prese in giro lo portano ad avercela a morte con sua madre almeno per un po di tempo all'inizio della sua vita e per via di tutto questo il giovane comincia ad essere molto egoista irascibile e a tratti crudele una volta raggiunta la maggior età cambia finalmente il suo nome in clark e da quel momento praticamente la sua vita cambia tutto e per tutto di colpo tutti i suoi problemi sembrano sparire e in maniera totalmente inaspettata comincia persino ad affezionarsi a sua madre certo litigano di continuo per molte cavolate ma lui prova comunque un sincero affetto nei suoi confronti come penso abbiate capito si trattava di un rapporto molto turbolento anche per via del fatto che clark non era cresciuto con lei lei era assente e lo è stata per quasi tutta la sua infanzia quindi ora che le cose sembrano andare bene non solo clark si attacca molto a lei ma comincia a sviluppare quasi un'ossessione nei suoi confronti nel frattempo comunque la sua vita va avanti durante la seconda guerra mondiale clark comincia a lavorare in una fabbrica come ingegnere di volo poi una volta finita la guerra continua comunque a lavorare nell'aviazione diventa un uomo con un buon lavoro e con una buona reputazione e nel 1944 a 43 anni riesce finalmente a sposarsi con la donna di cui vi ho parlato all'inizio quella che è andata per sbaglio negli uffici dei servizi sociali come vi ho detto prima lei si chiama irene o glasby all'epoca in cui si è incontrata con clark aveva quasi 20 anni in meno di lui proviene da una famiglia di contadini dell'oklahoma ma si era trasferita nel sud della california da adolescente insieme a degli amici di famiglia perché erano tutti in fuga dall'oklahoma a causa del fenomeno chiamato dust bowl ovvero un periodo di tempeste di polvere che di solito danneggiano le fattorie anche lei non ha avuto un'infanzia serenissima da piccola infatti ha subito un grave trauma cranico a seguito di un incidente e questo trauma cranico le ha procurato un danno neurologico molto grave che comportava problemi degenerativi alla vista dell'occhio destro irene forse anche a causa di tutto questo ha sviluppato un carattere passivo e remissivo a differenza di clark che invece è diventato un uomo duro autoritario e di indole violenta il caso ha voluto che si incontrassero e che si piacessero all'inizio almeno nonostante le pochissime cose che avevano in comune comunque si si sposano ma le cose non vanno bene per niente non vanno come sperato insomma infatti dopo pochissimo tempo clark comincia ad imporre delle regole sempre più assurde subito dopo il matrimonio inizia ad impedire ad irene di uscire di casa e anzi comincia a picchiarla per qualsiasi cosa lei come sapete ha problemi di vista ma questo non le risparmia alla cattiveria di clark che con le sue botte finisce addirittura per aggravare la sua situazione di sicuro non fa niente per aiutarla anzi il fatto che lei avesse bisogno di lui per via della sua condizione finisce per renderlo ancora più autoritario e ancora più controllante più il tempo passa e più la vista di irene peggiora il che la rende totalmente dipendente da clark è quasi cieca e ha bisogno di lui per moltissime cose per cui lui se ne approfitta col passare del tempo però sembra perdere totalmente il senno per ovvie ragioni i ragazzi non gli avevano diagnosticato nessun disturbo mentale in quel periodo ma è quasi certo che ne soffrisse l'uomo infatti inizia ad odiare i rumori qualsiasi tipo di rumore non sopporta sua moglie quando parla e l'obbliga a parlare a sottovoce se proprio deve farlo infatti in quella casa doveva regnare il silenzio altrimenti clark si sarebbe infuriato per via di tutto questo ovviamente non sopporta i bambini non vuole averli per nessun motivo al mondo li trova rumorosi fastidiosi eppure dopo cinque anni dal loro matrimonio il suo peggior rincubo si avvera irene rimane incinta alla scoperta di questa notizia che dovrebbe essere una notizia felice in un contesto normale clark diventa un vero mostro da quel momento comincia a violentare e picchiare sua moglie di continuo praticamente ogni giorno e la fase più delicata della gravidanza arriva addirittura a strangolarla strangolarla così forte che la donna viene ricoverata in ospedale nonostante tutto la loro prima bambina viene al mondo nel 1948 e la chiamano dorothy irene willey per non si sa quale miracolo la piccola è sana non ha niente che non va e davvero dopo tutte quelle botte e tutte quelle violenze è molto strano che sia totalmente in salute ma questa bellissima notizia per clark non è che una condanna probabilmente adesso che ci penso con tutte quelle violenze voleva che sua moglie abortisse non lo so è ipotesi mia comunque clark come potete immaginare non vuole affatto questa bambina quindi comincia a fare di tutto per ignorarla far finta che non esista l'uomo non la sopporta tra le stanze di casa sua non si sentiva volare una mosca ma con l'arrivo della piccola è cambiato tutto per lui è semplicemente inaccettabile pensate quanto era disturbato passano così due mesi in cui nonostante tutto cerca di tenere in casa la neonata che continua ad odiare con tutto il cuore e sempre di più ma la sua pazienza arriva presto al limite infatti un giorno la porta in garage che ovviamente non era riscaldato e la lascia lì non sappiamo per quanto tempo molto presto purtroppo a soli dieci settimane di vita la piccola prende la polmonite e muore in casa willey torna di nuovo il solito silenzio le solite privazioni e la solita routine ossessiva di clark è contento di aver portato tutto a com'era all'inizio ma questa pace tra virgolette durerà per poco irene rimane di nuovo incinta e questa volta dalla luce un bambino solo due giorni dopo la sua nascita però anche lui muore in circostanze misteriose direi ufficialmente però a causa di una particolare anemia non lo so clark ovviamente ne è felice ma non oso neanche immaginare il dolore di irene di sua moglie a questo punto la sua vista è peggiorata ancora di più vive in casa con un tiranno non può parlare non può fare niente subisce violenze quasi quotidianamente e i figli che ha avuto sono morti poco dopo la loro nascita in più suo marito è contento della loro morte cioè non so se ci rendiamo conto è una situazione malatissima e davvero surreale in questo modo comunque passa altro tempo tre anni per la precisione e nel 1952 nasce il terzo figlio un maschio che chiamano john questa volta il bambino è in salute e sicuramente si è trattato di un altro miracolo perché anche durante questa gravidanza clark aveva continuato a maltrattare sua moglie ma comunque il piccolo john nasce in questa situazione decisamente problematica tuttavia per i suoi primi anni di vita le cose sembrano andare senza troppi intoppi una volta imparato ad usare il vasino però comincia a venire trascurato del tutto clark e irene non gli danno amore non gli danno attenzioni neanche le cure c'è proprio niente a soli tre anni il bimbo era già praticamente abbandonato a se stesso vedendo le condizioni in cui stava crescendo il povero john la madre di clark may decide di intervenire il piccolo quindi a quattro anni comincia a vivere da lei che per fortuna era leggermente più brava a crescere un bambino non bravissima comunque più brava di loro sicuramente e grazie alla sua permanenza dalla nonna infatti john riuscirà ad acquisire tutte le abilità e le facoltà che si imparano nei primi anni di vita il suo sviluppo quindi riprende normalmente se fosse rimasto a casa dei suoi genitori probabilmente non avrebbe mai sviluppato correttamente tipo le funzioni cognitive perché la stabilità in casa di clark e irene non esiste in nessun campo neanche nel campo economico l'uomo infatti non riusciva a tenersi un lavoro quindi indovinate chi è che li aiutava la mammina esatto sempre mei la madre di clark se non ci fosse stata lei in quel periodo sarebbero diventati vagabondi probabilmente e forse sarebbe stato meglio ma comunque anche grazie a questi grandissimi favori clark si attacca a sua madre in maniera sempre più ossessiva e sempre più morbosa l'unica cosa positiva a questo punto è che john sta con sua nonna fine e se già vi sembra una situazione catastrofica aspettate perché le cose sarebbero andate molto 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 peggio nel 1957 nasce la quarta figlia di clark e irene la seconda a sopravvivere la chiamano susan in futuro però verrà soprannominata genie che è anche il nome con cui tutti la ricorderanno dopo vi spiegherò perché questo cambio di nome intanto io la chiamerò genie per tutto il video ok clark comunque ovviamente non è felice della nuova arrivata anche perché sorgono subito i primi problemi poco dopo la nascita di genie i dottori le diagnosticano una displasia congenita dell'anca che sarebbe una malformazione che avrebbe portato a gravi problemi motori se non trattata genie tuttavia riceve le cure corrette ma tutta questa situazione spinge clark già paranoico di suo a credere che la piccola avesse qualche ritardo mentale idea non nata da nulla ma alimentata proprio da un dottore tra poco torniamo su questo punto intanto devo dirvi che i primi mesi di vita di genie tutto sommato sembrano andare in maniera relativamente normale ma ecco che accade una cosa che avrebbe per sempre cambiato tutte le loro vite il 29 dicembre del 1958 clark è in giro con sua madre a prendere un gelato quando all'improvviso l'autista di un camion ubriaco perde il controllo del veicolo e va proprio addosso a me la travolge e la uccide l'uomo che guidava il camion nonostante lo stato alterato se la cava con molto poco e questo fa infuriare clark se ricordate in quel periodo l'uomo aveva sviluppato una vera e propria ossessione per sua madre quindi vederla morire davanti ai suoi occhi e vedere che il responsabile non è neanche stato punito a dovere gli fa perdere definitivamente la testa in lui scatta qualcosa si sente responsabile comincia a credere che il mondo intero sia da buttare che tutto faccia schifo e che non ci sia modo di essere veramente felici la sua paranoia raggiunge dei livelli mai raggiunti prima e lui comincia a cadere inesorabilmente verso l'insanità e la malattia mentale le sue regole in casa diventano sempre più severe sostanzialmente impossibili da rispettare per via della paranoia l'uomo lascia il lavoro e decide di trasferirsi insieme all'intera famiglia nella casa della sua defunta madre lì prende la decisione di isolare se stesso e tutta la sua famiglia da tutto il resto del mondo si convince che la società sia un pericolo dal quale stare alla larga da quel momento comincia a dormire nel soggiorno di casa di sua madre con un fucile o una pistola sempre vicini a lui perché non si sa mai è in uno stato di perenne tensione per lui era come se qualcosa dovesse scattare da un momento all'altro come se qualcuno potesse fargli del male mentre era distratto quindi era sempre lì allerta la sua psicosi a questo punto è evidente e molto preoccupante in aggiunta a ciò la sua pazienza arriva ad un limite pretende il silenzio più assoluto e pretende che nessuno mai disobbedisca ai suoi ordini clark è come un dittatore controlla ogni singolo aspetto della famiglia e chi subisce il peggio da tutta questa situazione purtroppo è l'ultima arrivata genie anche a irin essendo ormai totalmente dipendente da lui si limita a seguire il suo esempio non può fare altro genie intanto non viene considerata dai suoi genitori viene totalmente abbandonata a se stessa ovviamente se si fosse lamentata o se avesse urlato anche da neonata avrebbe ricevuto una punizione e per farvi capire la situazione voglio raccontarvi un aneddoto che ho trovato online non è chiarissimo il momento in cui è accaduto ma ipotizzo anzi è sicuro tra i zero e i due anni di genie praticamente in quel periodo di tanto in tanto la piccola veniva lasciata fuori in giardino per prendere un po d'aria ma veniva messa all'interno di una sorta di box un piccolo ricinto qualcosa del genere ecco un giorno a quanto pare la piccola provò ad uscire da questa box voleva esplorare era curiosa come qualsiasi bambino di questo mondo venendo questo comportamento però clark si infuriò tantissimo e non le permise mai più di uscire in giardino per lui era stato come un affronto no nella sua mente era proprio un affronto e quindi rinchiuse in casa la povera genie che era ancora piccolissima ad alimentare tutto ciò c'era quel pregiudizio e quella convinzione di clark che vi ho accennato brevemente prima perché lui era convinto che sua figlia fosse disabile mentalmente che avesse un ritardo e purtroppo questa sua convinzione non era accampata in aria perché all'età di soli 14 mesi un pediatra visitò genie per via di una febbre e una polmonite quest'uomo che non l'aveva mai visitata prima disse a clark che c'era la possibilità che genie avesse qualche ritardo mentale a causa di un problema al cervello non del tutto confermato cioè era un problema al cervello che doveva ancora essere confermato e se ci fosse stato e allora avrebbe potuto sviluppare o comunque avrebbe potuto avere un quotiente intellettivo minore rispetto alla media avrebbero sicuramente dovuto fare più visite per capire se effettivamente ci fosse qualcosa che non andava ma già solo questo per clark fu abbastanza quindi questa cosa qui unita al trauma della perdita della madre portano clark a considerare sua figlia peggio di uno scarto un abominio da nascondere e far finta che non esista ed è da qui che la situazione della piccola genie cambia drasticamente la casa in cui la famiglia willie si isola dal mondo che è la casa della madre defunta di clark viene suddivisa in spazi ben specifici la stanza di sua madre innanzitutto diventa una sorta di tempio un memoriale nel quale viene lasciato esattamente tutto così com'era quando ci viveva lei c'era poi una seconda stanza da letto nella quale viene confinata e anzi direi rinchiusa la piccola genie non essendoci altre stanze a disposizione gli altri membri della famiglia cominciano a dormire in salotto clark su una poltrona irene su una sedia e il piccolo john per terra già solo questa suddivisione fa capire che clark avesse perso del tutto la ragione e infatti quello che farà da quel momento in poi sarà semplicemente raccapricciante nella stanza o per meglio dire nella cella di genie non c'era praticamente nulla solo un armadio una culla e una sedia con un buco con sotto un vasino ovviamente per farle fare i suoi bisogni la finestra della stanza viene coperta in modo da non fare entrare neanche uno spiraglio di luce e da quel momento in poi qualsiasi contatto col mondo esterno l'è proibito a genie nessuno deve più sapere niente di lei ogni scusa è buona per punirla e per privarla di qualcosa di giorno genie viene legata nuda alla sedia col vasino non l'è permesso emettere alcun suono se l'avesse fatto sarebbe stata punita d'ora in avanti i membri della famiglia compreso john suo fratello purtroppo vengono obbligati a partecipare alle torture le fanno del male per i motivi più stupidi per esempio la costringono a mangiare velocemente imboccando la mentre era legata e immobilizzata sulla sedia col vasino e qualora non fosse riuscita ad ingurgitare in tempo tutto ciò che le mettevano in bocca o per un colpo di tosse o per qualsiasi altro motivo il resto del cibo le veniva spalmato in faccia e talvolta veniva anche colpita con un bastone in legno che suo padre lasciava lì in stanza con lei come a ricordarle costantemente che se avesse disubbidito tra mille virgolette veramente il bastone era lì pronto per essere usato contro di lei i pochissimi e brevissimi momenti di interazione con la sua famiglia erano sempre scanditi da qualche forma di abuso o umiliazione ovviamente tutte queste cose non non accadono subito sono accadute per gradi ma sappiamo che per anni tantissimi anni questa è stata la sua vita vi basti pensare che è stata rinchiusa in quella stanza 14 mesi di vita è è assurdo è disumano proprio per via del fatto che questo isolamento è cominciato così presto nella sua vita la piccola non può fare nulla non capisce non può non può capire quella è sempre stata la sua realtà una non esistenza genie infatti ha imparato in fretta a non emettere alcun suono già da piccolissima perché a un suono corrispondeva una punizione fisica durante il giorno come vi ho detto era costretta a stare nuda e legata alla sedia col vasino senza assolutamente la possibilità di muoversi in alcuni articoli ho letto che sua madre irene le aveva addirittura fatto una sorta di camicia di forza per farla stare ferma comunque di notte sentite di notte quando si comportava bene sempre tra virgolette veniva legata in un sacco a pelo e messa nella sua culla la quale però veniva coperta da una gabbia di ferro quindi vabbè in ogni caso non riusciva a muoversi neanche nella culla veniva sempre immobilizzata il più delle volte tuttavia non dormiva lì perché non si comportava bene e veniva quindi lasciata nuda sulla sedia col vasino tutta la notte per diverse notti consecutive anzi notti e giorni consecutivi immobilizzata senza poter mettere un suono senza poter vivere in quella stanza infatti per lei non c'era alcun modo per distrarsi era come stare in una cella anzi peggio le pareti erano spoglie era sempre buio pesto perché clark aveva oscurato la finestra e la porta non si apriva mai era sempre chiusa si apriva solo quando qualcuno doveva entrare per farla mangiare o per farle del male per darle da mangiare clark usava solo cibo di scarsa qualità come prodotti per neonati scadenti cereali mollicci e in generale cibi liquidi inoltre doveva mangiare e bere molto velocemente perché suo padre voleva limitare il più possibile ogni tipo di contatto con lei se urlava provava a ribellarsi o fare i capricci veniva picchiata con quel bastone ogni cosa che fanno questa bambina è una tortura e non abbiamo ancora finito una cosa veramente malvagia che faceva clark era mettersi davanti alla porta della cameretta di genie cameretta nella cella di genie ovviamente stando fuori dalla stanza e cominciare a fare questi versi tipo grugniti cominciava anche a ruggire fare dei versi comunque spaventosi per farle venire paura cioè quindi lui intenzionalmente proprio cercava tutti i modi per terrorizzarla per lasciarla lì immobile per non farla vivere letteralmente col passare del tempo ovviamente genie cresce ma cresce con tantissimi problemi problemi di sviluppo soprattutto la sua struttura fisica diventa strana insolita soprattutto per via del fatto che stava praticamente h24 su quella sedia vasino nonostante la sua età pesa pochissimo ed è lei è sheila scusate dicevo che nonostante la sua età pesa pochissimo non sa camminare non sa parlare fa solo qualche verso poco più le uniche cose che aveva visto nella sua vita erano le pareti buie della sua stanza e clark intanto nonostante gli anni passati continua col suo regno di terrore nonostante siano passati anni dall'inizio del loro esilio in casa il suo comportamento non ha fatto altro che peggiorare oltre alle torture verso genie clark continua ad infierire anche su sua moglie irene lei è ormai completamente cieca da un occhio ed è diventata sostanzialmente solo uno strumento nelle mani del marito irene tuttavia in questi anni ha provato a fare qualcosa ha provato ad affezionarsi a genie la sua figlia ha provato ad aiutarla ma senza successo suo marito intanto era riuscito ad isolarla al cento per cento non le permetteva di stare con i suoi genitori con i suoi amici ma nemmeno di chiamarli di sentirli anche lei ad un certo punto ha imparato a non esistere pensate che in una testimonianza futura dichiarerà che il giorno in cui si è sposata con clark è il giorno in cui la sua vita è finita l'uomo tuttavia permetteva a suo figlio john di uscire di casa per andare a scuola ma ad una condizione ovviamente lo accompagnava sempre lui lo andava a prendere anche tutti i giorni e con sé portava il suo fucile in modo da spaventarlo e a detta sua farlo rigare dritto la cosa davvero assurda è che per tutti quegli anni nessuno nel loro quartiere sapeva cosa stava succedendo non erano nemmeno a conoscenza del fatto che ci fosse una bambina in casa e sicuramente a questo punto vi starete chiedendo ma è possibile che nessuno di loro si sia mai ribellato a clark è possibile che nessuno abbia mai capito che c'era qualcosa che non andava è una domanda che sorge spontanea ovviamente ma grazie a dio non possiamo sapere come ci si può sentire dentro una situazione del genere sicuramente loro erano convinti di non avere nessuna possibilità di fare qualcosa di intervenire quella era semplicemente la loro vita andava così ovviamente clark impediva al figlio john che era quello con un po più di libertà di chiedere aiuto picchiava anche lui ovviamente e gli aveva insegnato a maltrattare genie e sua madre john aveva cinque anni in più di genie ma quando tutto iniziato era ancora molto piccolo ovviamente aveva sei anni quando tutto iniziato per cui anche lui nonostante fosse cresciuto era quasi totalmente succube di suo padre eppure aveva provato più volte a scappare e a salvare sua sorella ogni volta però aveva fallito miseramente e ne aveva subito le conseguenze suo padre era sostanzialmente un ostacolo troppo grande da superare una volta raggiunta l'adolescenza però john riesce finalmente ad andarsene in qualche modo scappa da quella casa e ci riesce però solo a 17 anni davvero non sono riuscito a trovare il modo esatto in cui è scappato fatto sa che almeno lui si salva per qualche motivo però non denuncia gli abusi e continua con la sua vita probabilmente era ancora terrorizzato clark non si preoccupa molto della fuga di suo figlio in casa ancora harina e gini sotto il suo controllo eppure le cose finalmente stanno per cambiare nell'ottobre del 1970 gini a 13 anni e 6 mesi malgrado la sua età sembra una bambina di 6 o massimo 7 anni le sue condizioni sono critiche la ragazzina ha sempre represso ogni tipo di emozione non è più in grado di esternare nulla o meglio esterna solo i sentimenti negativi non sa correre non sa saltare non sa parlare e anche incontinente perché non ha fatto altro che restare legata alla sedia col vasino per la maggior parte della sua vita davvero la sua è stata una non esistenza una sola ora nelle condizioni in cui ha vissuto lei per 12 anni potrebbe recare danni permanenti nella psico umana immaginate passare tutto quel tempo così gini ha uno sguardo intenso ma al tempo stesso sembra che non guardi nulla è come se il suo cervello non si fosse sviluppato del tutto come se non fosse mai cresciuta fosse rimasta quando è stata rinchiusa nella stanza per la prima volta una neonata di 14 mesi ma anche a irin non è messa bene è completamente cieca dall'occhio destro e cieca al 90 per cento dall'altro per via della cataratta dopo tutti questi anni è arrivata ad un punto di non ritorno odia la sua vita odia suo marito e non vuole più sottostare i suoi ordini finalmente la dittatura di clark viene messa in discussione anche da lei l'uomo e sua moglie infatti sempre nell'ottobre del 1970 litigano moltissimo come mai avevano fatto prima per irin questo momento deve essere stato una liberazione per clark invece deve essere stato il più grande affronto mai ricevuto nella sua vita ma alla fine per fortuna irin riesce a guadagnarsi un po di libertà minaccia clark di andarsene se non le avesse fatto chiamare i suoi genitori e lui probabilmente impaurito all'idea di rimanere da solo con gini che evidentemente odiava le permette finalmente di sentirli irin fa questa chiamata mentre il marito non è in casa un evento più unico che raro quindi ne approfitta fino alla fine slega sua figlia la libera e la porta con sé a monterey park una città nella contea di los angeles e due si trasferiscono ufficialmente lì vanno a vivere con i genitori di irin per un po e finalmente entrambe riescono ad assaporare la libertà per gini però comprensibilmente tutte questi cambiamenti improvvisi non sono piacevoli è curiosa ma al tempo stesso disorientata pensateci a 13 anni ma sta vivendo tutto letteralmente tutto per la prima volta non aveva mai vissuto prima di allora per la prima volta stava toccando vedendo annusando e sentendo il mondo aveva vissuto in uno stato di deprivazione sensoriale quasi totale quindi questa libertà per lei fu quasi destabilizzante comunque dopo tre settimane dal loro arrivo a monterey park irin va a fare domanda per avere un aiuto statale a causa della sua cecità porta gini con sé e si recano nella vicina temple city sempre in california ma proprio a causa della sua quasi completa cecità irin sbaglia ufficio ed entra per errore in quello dei servizi sociali come vi ho dato all'inizio questo fu un errore casuale che però avrebbe per sempre cambiato le loro vite l'assistente sociale che le accoglie intuisce subito che c'è qualcosa che non va vede la bambina gli sembra subito molto strana dall'aspetto e dai suoi comportamenti sembra che abbia appunto massimo sei sette anni indossa una sorta di pannolino rudimentale sbava ovunque ed emette dei strani gemiti senza senso ciò fa pensare all'assistente sociale che la bimba soffrisse di qualche disturbo neurologico chiede quindi ad irin quanti anni avesse sua figlia e lei gli risponde che aveva 13 anni scioccato l'assistente sociale chiama il suo supervisore i due portano quindi madre e figlia in un'altra zona degli uffici per parlare in privato di questa situazione e una volta confermata l'età di gini chiamano immediatamente e finalmente alla polizia i genitori della piccola vengono entrambi arrestati e gini viene presa in custodia e portata al children's hospital di los angeles la polizia è davanti al peggior caso di abusi su minore degli stati uniti al momento del ritrovamento gini era alta un metro e trentasette e pesava solo 27 chili finalmente la piccola era salva e non avrebbe mai più dovuto subire quelle indicibili torture se sua madre non avesse sbagliato ufficio probabilmente prima o poi sarebbero ritornate a casa con clark e chissà come sarebbe finita questa storia per fortuna le cose sono andate diversamente per fortuna a irina sbagliato ufficio immediatamente esperti come psicologi medici psichiatri linguisti cominciano a valutare la condizione della piccola e capiscono in fretta che sono davanti ad un caso senza precedenti per via della deprivazione sensoriale imposta già dalla tenere età gini non ha mai sviluppato praticamente nessuna competenza nemmeno quelle basilari i medici devono quindi capire se si può recuperare o se è troppo tardi per insegnarle a vivere e reinserirla nella società devono anche capire se le condizioni in cui ha vissuto abbiano fatto insorgere patologie ritardi mentali o condizioni simili insomma tutti si trovano davanti ad una situazione molto molto difficile una situazione che però anche un'opportunità incredibile a livello scientifico studiandola avrebbero potuto capire gli effetti della deprivazione della reclusione ad una tenera età e aiutandola e rieducandola avrebbero capito fino a che punto si potessero aiutare altri bambini in una situazione simile insomma se potevano aiutare lei potevano aiutare anche tutti gli altri bambini che avevano subito abusi perché il suo era il caso in assoluto peggiore mentre cominciano a curarla e studiarla la polizia porta alla luce tutta l'assurda situazione familiare in casa willey i medici così possono anche capire le ragioni per cui gini è ridotta in quello stato e gli psicologi possono fare collegamenti di causa effetto come c'era da aspettarsi la notizia del caso di gini viene diffusa su tutti i media e fa un notevole scalpore clark diventa praticamente subito uno degli uomini più odiati del pianeta tutti in quel momento non vedono l'ora di assistere al suo processo e alla sua condanna peccato però che la mattina prima della sua apparizione in tribunale clark willey si toglie la vita con un colpo di pistola sulla scena la polizia trova due biglietti d'addio uno destinato a suo figlio john in cui aveva scritto si un bravo ragazzo ti voglio bene l'altro invece destinato alla polizia in cui aveva scritto il mondo non capirà mai molti pensano che il suo suicidio sia stato una sorta di ammissione di colpa altri credono sia stato semplicemente un gesto codardo in ogni caso è triste pensare che clark non ha mai pagato per ciò che ha fatto e fa ancora più rabbia perché fino alla fine non solo non ha chiesto scusa per le sue azioni ma ha fatto pure intendere di aver ragione dando la colpa al mondo il mondo non capirà mai come se lui avesse fatto la cosa giusta a rinchiudere genie e maltrattare sua moglie e fosse il resto del mondo ad avere le colpe perché non capisce davvero assurdo alla fine comunque molti dei suoi segreti sono morti con lui non ha mai fatto una dichiarazione non ne ha mai parlato pubblicamente nulla ha deciso di evitare tutto questo e andarsene anche per questo il motivo per cui si è comportato così nei confronti di sua figlia non è certo al 100% è quasi sicuro comunque che soffrisse di qualche disturbo mentale e che fosse convinto di doverla rinchiudere perché genie aveva un ritardo cosa di cui era convinto solo lui e che sarebbe stata poi smentita in futuro ad ogni modo dopo la sua morte le autorità e il personale ospedaliero si concentrano esclusivamente su genie e su sua madre in tribunale aereine viene difesa bene dal momento che è stata anche lei vittima di suo marito in aula viene alla luce tutto quanto tutte le le dinamiche gli abusi le violenze e viene confermato che l'unico responsabile di tutto questo schifo era clark alla fine quindi le accuse contro irene cadono e lei viene assolta a seguito del processo riceverà anche delle cure tempestive da parte dell'ospedale genie viene sottoposta al controllo e alla protezione dello stato e dei medici esperti che provano ad aiutarla provano a farla recuperare provano a farla rinascere ma potete immaginare quanto sia difficile genie ha 13 anni quindi la domanda è è ancora possibile farla recuperare è possibile sviluppare il suo linguaggio il suo apprendimento la sua intelligenza emotiva tenete conto che sono gli anni 70 molti rami della scienza non sono sviluppati come oggi e il rieducare un bambino è difficilissimo specialmente genie però a prescindere dal periodo storico e dalle risorse servono anni impegno e molti soldi per finanziare un percorso adeguato ebbene essendo il suo un caso così atipico serve addirittura uno sforzo maggiore sono in molti a considerarla come una bambina unica nel suo genere non è facile interagire con lei e forse è per questo che viene soprannominata genie feral child ovvero genie bambina selvaggia ai tempi era diverso non si avevano tutte le conoscenze che si hanno oggi c'erano più pregiudizi eccetera per cui purtroppo una bambina come lei anche agli occhi dei più esperti appare comunque come selvaggia e comunque come vi accennavo prima il nome genie le viene dato solo una volta salvata per proteggere la sua identità in origine appunto si chiamava susan ma per anni per salvaguardarla il suo vero nome non è stato condiviso col pubblico comunque tornando alle sue cure e qui si apre ragazzi un altro capitolo molto importante i medici cercano di fare tutto il possibile per lei cercano di non trascurarla le danno tutto il supporto di cui ha bisogno poi la sottopongono a vari test soprattutto per capire la sua condizione da un punto di vista scientifico tanto per cominciare non riescono a stimare l'età mentale di genie o le sue capacità cognitive ma in due test scoprono risultati simili a quelli di un bambino di 13 mesi e lei era stata rinchiusa a 14 mesi quindi i conti tornano nonostante tutto malgrado il suo stato di cattività adesso che un po più libera e attratta dai rumori che non ha mai sentito è curiosa però ha paura degli animali specialmente dei cani e dei gatti e non sembra riuscire a provare affetto per nessuno quando incontra sua madre sembra molto tesa e non sta mai ferma in qualunque ambiente e contesto in cui si trova sbava e sputa oppure soffia annusa in giro a volte prende degli oggetti altrui senza chiedere permesso oppure indica qualcosa che qualcun altro ha in mano e fa intendere che la vuole anche lei ma non emette troppi versi non fa troppi capricci a livello verbale non fa rumore era stata abituata fin da piccolissima a reprimere ogni tipo di suono e ogni tipo di emozione per cui anche se è libera le viene molto difficile esprimere tutto ciò questo caso ragazzi è di una tristezza infinita oltre a questo comunque in varie occasioni in cui sono presenti altre persone anche tante altre persone la ragazzina si tocca nelle parti intime un comportamento che fa subito credere gli esperti che genie avesse subito anche violenze di tipo sessuale ma non c'è mai stata una conferma su questo punto solo un fortissimo fortissimo sospetto in questo modo passa del tempo e vengono tratte delle prime conclusioni sul suo caso innanzitutto viene smentita ogni possibilità di autismo ma per molti esperti è evidente un alto livello di disturbo emotivo per fortuna durante la degenza in ospedale comincia a mangiare bene e riprende le forze finalmente si irrobustisce un po il fatto di mangiare sano la porta anche a muoversi meglio così comincia ad effettuare quei piccoli movimenti in più che comunque fanno la differenza comincia a giocare ad appassionarsi alla musica e tutto ciò fa ben sperare agli esperti anzi vedono in lei del potenziale per condurre qualche test per migliorare la sua condizione la aiutano nello sviluppo del linguaggio la spronano a stare insieme ad altre persone anche se su quest'ultimo punto c'è molto da lavorare comunque durante l'ultima parte della sua permanenza in ospedale genie gioca già in maniera più intensa anche con gli adulti e alla fine inizia persino a provare gioia nel dare e ricevere abbracci una cosa molto bella che volevo assolutamente dirvi è che le persone che sono state a contatto con lei raccontano che la sua risata e anche i suoi sorrisi erano contagiosi se rideva lei tutti nella stanza cominciavano a ridere si faceva amare da tutti e tutti passavano volentieri del tempo in sua compagnia anche se a tutti gli effetti lei non parlava non riusciva a parlare è una cosa bellissima nonostante tutti quegli anni vissuti così lei comunque portava gioia alle persone comunque i medici conducono anche degli esami al cervello per cercare di capire meglio la sua condizione cerebrale vogliono determinare con precisione il livello dello sviluppo del linguaggio della bambina e sperano anche di creare una sorta di evidenza scientifica riguardo lo sviluppo del linguaggio nell'essere umano c'era infatti in quegli anni chi credeva che il linguaggio fosse innato nell'essere umano e che quindi anche geni sarebbe stata in grado di acquisire tutte le capacità di linguaggio tutte quelle capacità che servono per parlare correttamente fluentemente però c'era anche un'altra corrente di pensiero che sosteneva ci fosse un punto critico sia per quanto riguarda il linguaggio che per altre funzioni psicologiche in sostanza quest'altra corrente di pensiero riteneva che ci fosse un'età entro la quale i bambini dovessero fare determinate esperienze e apprendere determinate nozioni altrimenti se non l'avessero fatto quest'area del cervello non si sarebbero mai potuti sviluppare al fine di fare chiarezza riguardo ciò gli scienziati riescono ad ottenere una borsa di studio triennale sul caso di geni in questo modo avrebbero potuto monitorarla per molto tempo durante l'apprendimento si tratta di una fase molto controversa del caso perché se da una parte un bene che un team di esperti stia valutando le condizioni di questa povera bambina sfortunata dall'altro lato sembrava che gli esperti si stessero approfittando di lei per un mero scopo scientifico per avere dei risultati di ricerca tra le mani da quel che è emerso poi con gli anni pare che entrambe le cose siano vere cioè è vero che qualche gruppo di esperti forse è stato troppo insistente e ha usato geni per il solo scopo scientifico ma è anche vero che grazie a questi studi le hanno permesso di darle una mano di fare reali progressi per esempio una dottoressa che in quel periodo la stava aiutando riceve il permesso di portarla un po a casa sua e durante la sua permanenza lì per provare a farle passare la paura per i cani le fa guardare gli episodi di torna a casa alessi con la serie tv molto vecchia e le regala un cane giocattolo anche alimentato a batterie e alla fine dopo un percorso per superare questa paura geni comincia a tollerare i cani ma solo se stanno dietro un recinto per i gatti invece non c'è verso continuo ad averne paura e continuo ad odiarli come fai non lo so comunque intanto si tratta di un piccolo passo avanti a la madre di gini intanto riceve un intervento chirurgico per la cataratta e grazie a ciò la sua vista dell'occhio sinistro migliora dismisura e anche il rapporto con sua figlia migliora molto ma almeno per il momento all'inizio le due si possono vedere solo raramente la ragazza rimane a vivere con una delle sue insegnanti e la sua famiglia poi da altri esperti e in altre strutture tutto ciò dura circa 4 anni 4 anni di studi e di apprendimento che migliorano notevolmente la sua situazione pensate che ad un certo punto geni riesce a ricordare una cosa che aveva vissuto in casa con suo padre riesce ad esprimerla con poche parole quelle che è riuscita ad imparare almeno e dice questa lunga frase apparentemente sconclusionata sentite padre colpire braccio geni piangere non sputare padre colpisce faccia sputare padre colpisce grande bastone padre è arrabbiato padre colpisce geni grande bastone padre prende pezzo di legno colpisce piangere padre mi fa piangere padre è morto partendo da queste parole hanno provato a farle ricordare altro a parlare con lei a farle condividere di più ma senza successo passano così anche quei quattro anni e tutto procede abbastanza bene la sua situazione è decisamente migliorata rispetto al passato anche perché non aveva mai ricevuto così tante attenzioni così tanto affetto e supporto dalla fine di questi studi è emerso che in effetti proprio a livello cerebrale se non vengono stimolate alcune funzioni psicologiche dai 18 mesi di vita fino alla pubertà alcune aree del cervello proprio non si sviluppano smettono di crescere passatemi il termine si atrofizzano una di queste aree è quella legata al linguaggio quindi purtroppo geni non sarebbe mai stata in grado di comunicare usando frasi di senso compiuto capiva le parole e riusciva a farsi capire specialmente con linguaggio non verbale sapeva anche pronunciare non molto bene tutta una serie di parole ma non riusciva a collegarle tra loro per formare una frase completa non riusciva ad utilizzare i pronomi a coniugare i verbi e mettere insieme le parole in maniera grammaticalmente corretta per farvi capire ecco un video in cui si può sentire la ragazza a parlare che si può sentire la ragazza a parlare sicuramente aveva fatto tantissimi passi avanti ma il suo progresso in bene o male tutte le aree della sua vita si sarebbe presto interrotto e anzi sarebbe addirittura regredito alla fine della borsa di studio e una volta dimostrata la teoria dello sviluppo delle aree cerebrali lo stato non ha più finanziato la ricerca su geni per questo all'età di 18 anni nel 1975 la ragazza torna a vivere con sua madre eirene la sua permanenza lì però non durerà molto perché eirene si rende conto di non poterle fornire le cure adeguate e a malincuore la restituisce tra virgolette alla custodia dello stato e così la povera geni viene mandata in varie case famiglia e strutture sanitarie in questa fase regredisce e peggiora di giorno in giorno il suo stato psicologico purtroppo peggiora nonostante tutti quegli anni di successi e il motivo sarebbe da ricollegarsi al comportamento delle persone che avrebbero dovuto prendersi cura di lei pare che in diverse occasioni geni sia stata zettita punita e rimproverata per aver attuato comportamenti del tutto normali il che lentamente l'ha fatta tornare timorosa e silenziosa per fortuna durante i quattro anni precedenti aveva imparato la lingua dei segni con la quale ha sempre continuato a comunicare questa sconfitta comunque ha spezzato il cuore di tutti quelli che le volevano bene tutte le persone che hanno investito risorse per aiutarla in ogni modo possibile si sono sentite sconfitte e soprattutto impotenti di fronte al sistema che non ha più permesso di intervenire a nessuno ma quindi come sta adesso cosa l'è successo abbiamo aggiornamenti sappiamo qualcosa ecco l'ultimo aggiornamento ufficiale riguardo la ragazza risale al 1978 quando sua madre tramite provvedimenti legali ha impedito ogni tipo di studio scientifico su geni da quel momento nessuno ha mai più potuto osservarla e studiarla la ragazza nel 78 aveva 21 anni il dipartimento dei servizi sociali della california ha inoltre dichiarato che qualsiasi altra informazione relativa a geni è riservata sarebbe stata riservata da quel momento in poi e non sarebbe mai potuta essere pubblicata resa pubblica eppure un investigatore privato ha affermato di aver localizzato geni in una struttura privata nel 2000 nonostante le pessime condizioni di vita racconta che sembra essere felice geni sembra tranquilla nel 2008 poi all'età di 51 anni geni viveva nella sua sesta casa di cura a los angeles e purtroppo è stato confermato quello che già si era osservato molto tempo prima geni è regredita e non è più in grado di parlare sa comunicare solo attraverso il linguaggio dei segni susan curtis una linguista che aveva precedentemente studiato geni crede che adesso sia ancora viva e si trovi in una struttura gestita dallo stato che non consente il contatto con gli strani in ogni caso è sicuro che sia ancora viva tutt'oggi e se ci pensate questa storia non smette di essere triste perché è triste dall'inizio alla fine cioè geni è stata tradita due volte prima dalla sua famiglia e poi dal sistema sanitario e dallo stato ancora oggi c'è chi discute sulla moralità degli studi effettuati su geni ma come avete potuto vedere quel periodo forse è stato il più felice o almeno il più pieno della sua vita in quegli anni ha imparato quasi tutto quello che poteva imparare mentre adesso è regredita e non ha la minima possibilità di migliorare questa è sicuramente una delle vicende più tristi e ingiuste che conosco veramente non possiamo nemmeno immaginare come si sia sentita geni per tutti quegli anni rinchiusa e non possiamo neanche immaginare come sia stato per lei vivere il resto della sua vita di struttura in struttura che esistenza è questa geni a casa sua aveva imparato a non esistere e purtroppo anche una volta liberata e finiti i finanziamenti dello stato è stata condannata allo stesso destino una non esistenza sento che avete tante cose da dire quindi ci vediamo qua sotto per parlare di questa vicenda tristissima veramente ragazzi tristissima non saprei come altro definirla brutta comunque ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto parleremo di un'assurda e raccapricciante storia che semplicemente non ha senso non ha senso credetemi e non posso dirvi altro non ci sono altre parole spero che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti vi ricordo anche che su pampling link in descrizione trovate tutte le magliette e le felpe che indossano i video come questa molto bella sei stressato sì no guardate come il no dov'è qua bellissimo ora tra l'altro dovrebbero ancora esserci saldi date un'occhiata con il codice andrew comunque vi daranno anche un paio di calze a vostra scelta in omaggio ma adesso parlo con te sì proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo questa ne entrerà a far parte per forza vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i miei e niente vi ringrazio ancora vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao